Ciao! Se stai guardando questo video molto probabilmente sei uno di quelli che odiano la matematica o che hanno una prof che spiega male e non si capisce niente. Oppure sei uno di quelli che se la cavano, magari prendono anche qualche buon voto, ma vorrebbero migliorare. Di qualunque gruppo tu faccia parte sei nel posto giusto. Ti aiuterò a capire come si svolgono tutti gli esercizi, dal più facile al più difficile. Ho preparato per te tanti video divisi per argomento e strutturati per tipologie di esercizio, in modo da darti sin da subito un schema ben chiaro. Ogni video è caratterizzato da due aspetti. È pratico, quindi niente teoria. Ho immaginato che tu ne faccia già abbastanza a lezione. Ed è breve. Ho pensato che se già la matematica ti annoia, con un video lungo avrai rischiato di addormentarti. Quindi video corti e di soli esercizi. Scoprirai che bastano pochi minuti per prendere confidenza con la matematica. E che quello che prima ti sembrava impossibile, in realtà è molto semplice. Pensaci, come tutte le cose, all'inizio ti sembra tutto impossibile. Poi in realtà scopri che non lo è. Se sei uno sportivo, non so, ti sarà capitato di andare in palestra il primo giorno, alzare un peso da un chilo e dire, ma no, ce la faccio, è impossibile, siete matti. Poi in realtà dopo qualche settimana incominci già ad alzare i pesi da 5, 10 o 15 kg. O se sei un appassionato di musica e ti piace suonare uno strumento musicale, all'inizio fai difficoltà, non azzecchi nemmeno una nota e poi pian piano con impegno e con un po' di pratica diventi bravo. O se sei un gamer, quindi ti piace giocare alla Playstation, all'Xbox, quando esce un nuovo gioco sai benissimo che all'inizio sei scarso, che perdi sempre, ma poi provi, provi e riprovi e diventi bravo e diventi imbattibile. Ecco, con la matematica è proprio così. Se ti alleni, ti impegni e fai pratica, diventa tutto molto semplice. Io ti guiderò con i video per spiegarti tutti i passaggi per risolvere l'esercizio e poi alla fine toccherà a te. Infatti alla fine dei video ti metterò una serie di esercizi su cui puoi far pratica e su cui puoi metterti su da subito alla prova per imparare quello che hai visto. Ho adottato questo metodo da anni a ragazzi di scuole medie, superiori e università e ha sempre funzionato. Non ci credi? Prova tu stesso!